Come previsto, la neve è arrivata in pianura padana e il suo manto bianco coperto anche Cremona. Stando all'estime, una quindicina di centimetri in tutto sono caduti dal luna del mattino. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di regione Lombardia ha previsto che le nevicate saranno generalmente di debole intensità e discontinue. Proseguiranno anche in serata sulla bassa pianura e domani, 2 marzo, saranno possibili altre debole nevicate in pianura per il passaggio di una veloce depressione proveniente da Ovest. Nonostante qualche inevitabile disagio, la macchina del pronto intervento in città ha funzionato a dovere. Non si sono registrati particolari problemi sulla circolazione, a parte qualche normale rallentamento. Scuole aperte, negozi e uffici pure. I tecnici del comune, con quelli di AEM e Cremona, continuano a monitorare la situazione di strade e marciapiedi per ridurre al minimo le insidie del freddo, perché ora il rischio è quello del ghiaccio. Un risultato frutto di prevenzione, infatti, dai giorni scorsi che si sta provvedendo ad effettuare la salatura di strade e marciapiedi, oltre che sulle principali via d'eccesso e la città, anche in tutti i quartieri, utilizzando nove mezzi spargi sale. L'operazione è stata ripetuta ieri pomeriggio in previsione della nevicata. In azione 15 squadre manuali, formate da tre uomini ciascuna per distribuire il sale. Alla prima luce dell'alba sono entrati in funzione anche gli operatori delle 53 lame previste dal piano neve per mantenere pulite le strade della città. Con la situazione di viabilità e sicurezza sotto controllo, i cremonesi hanno potuto così godersi uno spettacolo che, come sempre, stupisce e fa tornare un po' bambini.